Carta Canta è il servizio di Polizia Municipale a redigere una relazione che evidenzia alcune criticità rispetto a un tratto di via Perugina, interessata dai lavori di riqualificazione dei mesi scorsi. Un sopralluogo fortemente sollecitato da un residente, che ha anche un'attività commerciale proprio lungo il marciapiede più estremo sul lato destro, salendo di quelli riqualificati. In primis si chiede un sopralluogo all'Ufficio Tecnico Comunale per verificare la sicurezza della pendenza del marciapiede in questione. Risulta, è scritto testualmente in obliquo, pericoloso per anziani e portatori di handicap e per tutti in condizioni di pioggia, gelo e neve. Inoltre, essendo in obliquo durante i temporali, tutta l'acqua caduta si va ad incanalare verso l'ultima attività commerciale al termine della piccola pendenza, di fatto allagandolo. Ed ancora, si è rilevata una situazione di cauticità riferita alla circolazione veicolare nel tratto che va dalla rotatoria fino alla chiesa della Madonna del Prato. Lì si circola a doppio senso e, come recita la relazione della Municipale, ci sono veicoli in sosta su entrambi i lati che rendono difficoltosa la cosa. Inoltre, sulla stadia stradale risultano posizionati quattro contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui una campana di vetro. All'intersezione con via Perugina è stata ricavata un'area sulla quale sono stati posizionati ulteriori otto cassonetti, che riducono, dice la Municipale, ancora di più la carreggiata. Così, il Capitano Naticchi suggerisce di rivedere la regolamentazione della circolazione dell'area per aumentarne la sicurezza nella circolazione veicolare. La Polizia Municipale ipotizza infine maggiori controlli per evitare che autovetture salgano sul marciapiede ancora non potendo. Ci sono evidenti segnali di pneumatici che raccontano l'inciviltà di alcuni autisti. La Polizia Municipale